Buona domenica a tutti! Oggi sono qua per promuovere un libro, un libro che parla della storica battaglia di Parabiaro, avvenuta nel 1339. Infatti il libro si intitola 1339, il nemico alle porte, scritto da Francesco Granito. Adesso vi faccio vedere la copertina del libro. La battaglia di Parabiaro ha dei risvolti storici molto importanti, non ha nulla da invidiare a quella di Legnano. Io vi invito a comprare il libro e a leggerlo, perché così avete modo di conoscere meglio i dettagli di questa battaglia, che è stata anche molto cruente. Insomma, avete modo di scoprire tutte le cose interessanti leggendo il libro di Francesco Granito. Poi dopo siamo anche sotto Natale, se volete fare un regalo, insomma un libro è sempre ben accetto, anche perché aiuta a migliorare la nostra cultura a livello proprio generale. Niente, vi ringrazio tutti, spero che passiate delle buone feste e un felice anno nuovo a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao!